Folle in seguimento questa notte da Gariga a Piacenza. Verso le 2.20 una pattuglia dei carabinieri di San Giorgio ha intimato l'Alt a un'auto sospetta. In un primo momento il conducente si è fermato, ma è subito ripartito per tentare di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento a folle velocità fino a Piacenza, dove l'automobilista in fuga ha imboccato varie vie controsenso, creando anche situazioni di pericolo. I carabinieri, coadiuvati dal nucleo radiomobile ed alcune pattuglie di polizia, sono riusciti a intercettare l'auto in via Farnesiana, dove quest'ultima ha speronato frontalmente la gazzella dei militari. L'uomo al volante è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce, ma i carabinieri lo avrebbero già individuato perché ha dimenticato i documenti sulla vettura. Quello che voglio evidenziare è la professionalità evidenziata, il coraggio evidenziato nelle fasi dell'inseguimento, dove ha prevalso, quindi rispetto alla concitazione, rispetto agli eventi, è prevalso la professionalità, che ci ha permesso di non portare la situazione a ulteriori conseguenze ben più gravi che potevano comunque verificarsi. Per la sua ricerca sono intervenute a supporto anche quattro pattuglie di guardie giurate ivri. I militari dell'arma, rimasti leggermente feriti nello scontro, sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Come sono stati quei momenti? Sono stati momenti sicuramente concitati, dove abbiamo dovuto mantenere assolutamente il sangue freddo per gestire la situazione al meglio, in quanto il soggetto aveva una guida particolarmente pericolosa che metteva sicuramente in pericolo tantissimi utenti della strada perché continuava a imboccare vie contro mano e a cercare in tutti i modi di disseminarci. Questa mattina i due carabinieri rimasti feriti hanno ricevuto in ospedale la visita da parte del prefetto Maurizio Falco, del questore Pietro Ostuni, del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Michele Piras e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Daniele Sanapo. Due uomini delle forze dell'ordine e dell'arma dei carabinieri in questo caso hanno messo a rischio la loro vita per la sicurezza dei piacentini. Ritengo doveroso testimoniare ogni volta questo che succede per far capire con un messaggio che non è retorico ma è sostanziale quanto fanno i nostri uomini sul territorio e quanto la sicurezza e la tranquillità di una comunità come la nostra è garantita dagli assoluti professionisti che sono coraggiosi e capaci.